DAI! DAI ALLORA! gonna live forever in my way ma le bet sono un po' di dice se non tante e osò pure dire che le bet per favore vaffanculo Robby porco Dio it's my life it's now what let's go oh god let's go Sì Che merda quel Kendra che diventava In imma Tanca la Merkel via It's my life Madonna mia però Madre bro che cazzo è sta roba Questa è tosto ora Quanti punti sono il rivale qua? Male mamma mia Però ero molto veloce Comunque quindi vediamo Molto bene cazzo Molto bene Fervo un buono normale no? Assurdo bro Fervo un normale bro Dai però È progressiva questa di carto È normale rega Hitmontop non è normale Buono Non ha malo stesso di me Hitmontop vuol dire Ok Progressiva quindi Ok Bella Diego Dai Dai allora Dai allora è carta bro È carta È carta È carta Buono Dai cazzo Crederci sempre Come si chiama la carta? Crederci sempre Com'è la carta? Com'è che si chiama rega? L'origine del male 1 Nice Bellissima chiaramente Vabbè ma ragazzi Non ve lo devo dire Io Tullis che è il nazza Dai Ok buono Carta fatta Molto bene cazzo Molto bene capo Molto bene la carta qua Però ora non la posso fare Nella stessa run no? La prossima Quindi di due normali Giusto? Non la posso fare Nella stessa run Giusto? Correggetemi se sbaglio capi Per favore Palle bro I danni qua Assurdo C'è un Trauer che Ok ok Però intanto Ce la si è allevata una volta Se ritorniamo qua Se troviamo due normali La facciamo Capito? Allora Luna ton si becca Per forza di cosa Energy ball Prima lo avevamo shottato Con Energy Molto bene Giuno A bombas no si becca Trauer 4x E' importante Far sta pale Possibilmente Non è di contatto Trauer 2x Energy ball The fog Penso sia ok Ok Calma capo Sconfiggi Whitney Più 12 Molto bene Vai 580 Più BST Avete detto Per ora no Giusto Per ora no È evidente Per ora no Dobbiamo trovare Un 580 Più BST Alla torre Nantes Non lo è 580 Più la prima carta Rega Avete detto Palle Nantes Minchia Nantes Rompe il cazzo Zio Madonna Aia Merda Buono La carichi sul tubo Poi staranno Sì sì Sarà su Stasera esce l'episodio Di Gallad con Joe È giocato in cop Con Joe Su YouTube Fate conto Quindi Selvati valgono Per la carta Eccolo Eccolo Carta Buona Cazzo Farla qua Perché queste Non sono scontate Per nulla Far ste carte Rega Non è scontato Per nulla Far questa qua Della torre bruciata La torre 1 La torre 1 Bellissima L'illustrazione Di Tullis Chiaramente Bellissima L'illustrazione Di Tullis Chiaramente Bell'attacco Bad Ti voglio più presente Stemattine Ora che sei libero Comincia ad essere Più libero Al punto Ora è non morire Da questo Porco Dio Scatutto Tranne che scontato Ho molta difesa Però questa fa male Ha missato Ah era parrato God Allora Più difesa Meno special defense Molto bene Cazzo che ha missato La shadow force Merda però Cioè questa sarebbe Seconda carta bro Merda Questa sarebbe Seconda carta Capo Però non vale Ho tradato 10 HP Per non Finire PP Di Force Pelm Non so quanto Si è stato Worth Si fa nella stessa Rana No questa No ragazzi Le carte progressive Non valgono Nella stessa Randa Quel che so io Non vale Il livello 2 Perché devi fare Il run Diverse Se non erro Coraggitemi se sbaglio Se sbaglio Felice di mettergli I punti Ho fatto il rivale Vero cazzo Rivale Torre bruciate Vero 10 punti Vorrei provare Il full clear Ma non voglio Rischiarlo Il full clear Qua Cioè Boh Vediamo adesso C'è un'altra Carta da fare Qual è la prossima Carta fattibile Regà Qual è la prossima Carta fattibile Aia Deripackstab Fa male Le cure Merda Che sfiga Ste cure Porco dio Bro Boh Vediamo Proviamo a fare Un paio di trainer Vediamo Se prendo uno status Cagate Va Riesco Regà Ve lo dico Buono Volevo prendere Lighten Prima Ma Si è girata Ok 10 danni Fine Penso Forse Pelm Per forza Penso Raga Io non so se rischiare Il full clear E' rischioso Ho solo una cura Non lo so Non lo so se rischiare Qua Merda Il tempo sta volando Siamo già a 5 ore Madonna Quanto mini Cioè se mi facevo Se le facevo entrambe Vecchia era la fine No Raga Il trovo a 2.580 PBS Ti va fatto per forza In una run diversa Da questa Adesso ora trovo Un altro Enteio Raiko Non vale Ok Non vale Ho fatto un'altra carta No raga Non vale E' worth fare full clear Uno me lo posso rischiare Però non ho più Non so Sorry Ho poche HP Minchia Madonna Nantes Cosa cazzo Soffriva pure C'è sotto Dragon Rage Anche ora Merda Raga Allora O rischio L'ultimo Trainer Però non le rischierei Raga La sfida coppie La sfida coppie Bastardissima Raga Qua Io per gridare Non rischierei Rieschio di morire A caso Qua La sfida coppie Bastarda I pogmon Sono al 36 Tipo Bastarda Qua Io esco Bro I don't care Voglio continuare La run E tenermi la cura Vado tranquillo Bro Non mi interessa Cosa dice la chat Ragione di testa mia Che meglio Sta zitto Nanni Sta zitto Nanni Gli item Gli ho presi tutti Quindi non abbiamo Le escape rope Quindi l'item Delle escape rope Non lo possiamo prendere Provi alla pale Però È tosta Senza cure Qua Secondo me Già male al primo Porca troia È tosta Raga Senza cure Qua abbiamo già perso Un fracco di vita Al primo Ci sta Trauer non è di contatto Quindi tecnicamente Meglio da fare Trauer non di contatto Infatti il pp abbiamo qui Abbiamo anche un pp up Se non erro Avalanche No È post priority move Non la insegno Che palle questo Però aveva perish No Ok Dai bro Per favore Pula sta pale Minchia Magari Cazzo Sarebbe tanta roba A fare Merda Flamethrower Ok Ok lui Switch A Pokémon Addirittura Errol Farei forse Wing Attack Perché ha Molta difesa speciale Buono Questo era Switch Again G2 Nel dubbio faccio Trauer Perché lo stecca Non so Wing Attack Se ha Un'abilità O altro Di cosa Ma come Quanti forrest ha Porco dio Quanti forrest ha Ma oh Me ne hanno Come tre forrest Come tre forrest Stiamo scherzando Porco dio Merda Anche la palle fatta Con questa tanta roba Bro Però fosse morto Pensavo Sarebbe morto Qua se ve lo devo dire In tutta onestà Molto bene Bro Leggendario O misterioso Ah non c'è un BST Dai vi faccio la bet Di trovare Un leggendario Un misterioso Al posto di Geridos Rega la carta Grazie dei follo Comunque Dai bro Carta 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 Sì No mi arrestano Bro Sì No Non mi arrestano Mi arrestano Non mi arrestano Cazzo Ma mi arrestano Mi arrestano Capo Mi arrestano BAM Porco Dio Merda Un drago Un leggendario Un drago No Minchia Grodon Porco Dio Spiritomb Aveva Titter Dance Madonna Quasi crepa Carta 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 Perché carta Ah è leggendario O drago Avevo capito Avevo Avevo capito Drago Avevo capito Drago eh Avevo capito Drago Drago Leggendario Misterioso Allora bro Allora si Si gode Si gode Nel chill Bro Merda Queste qua Non sono cose Scontate Da fare Nella lega In qualsiasi sfida Di lens In qualsiasi sfida Di lens O non rompete Il cazzo Rosiconi Dio cane Come si chiama La Come si chiama La carta Come si chiama La carta Capi Come si chiama La carta Ragazzi The great Si vola Si vola Con Cazzo Questo non lo avevate Neanche trastare Sto desk noir Ha fatto Fatica Della grotta Di Mewtwo Carta di Geridos E carta qua Pazzesco bro The great gig in the sky Merda Il Tullis Sempre pauroso Bro Sempre pauroso Il Tullis Con Con gli artwork Con la roba Qui Si è bloccato OBS Ok Pazzesco Il Tullis Impossiante bro Molto bene Molto bene Molto bene Ma Azelf È al 3 E che c'entra È sempre stato così Che è al 3 Azelf Non ho capito Cosa c'è di strano Che Azelf Sia al 3 Però Ok Merda Quel Groudon Che danno fa Merda Crepo qua Raga Ok Mist Va bene Secchiamo tutti questi Allora Merda Eh Allora Io farei Ok Buono Merda Aia Porco Porco Dio Che danno fa No 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 Ok Buono il burn Però Il Perriani Cazzi Il Perriani L'avevano shottato Prima Wing Attack Secondo No Avevano fatto energy ball Al Perriani Giusto Merda Il punto è che il tracker Essendo che Ora c'è sta rom Velocizzata qui Non mi dà il tempo Di segnare Se shottiamo il pokemon Capito Mi abbiamo fatto energy A lui Sono abbastanza certo Buona la Merda Oh la Oh la Oh la Merri Codato Che mi cura Della parra No Pazzesca Pazzesca La Merri Che cura Della parra Codato Pazzesca La Cherry Berry A salvare Incredibile La Cherry Berry data Per sicurezza Pazzesca 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 È tanta Roba Ragazzi Se fa sta Pale Tanta 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 Roba Non mi aspetto Faccia sta Pale Non mi aspetto La Pulli La Pale Te lo dico Purtroppo Perché non abbiamo Cure Non mi aspetto La Pulli La Pale Socio Però Diciamo che Lo volevate cambiare In early game Quindi ha fatto Già più del Se fa anche sta Pale Tanta roba Madonna Se fa anche sta Pale Qui è veramente Tanta roba È il nazz Total Minca Quella Raich Lì era da steccare Dio porco Raich Era da steccare Vediamo Merda Merda Bro Però Bello Che me lo fa Su King Dra cazzo Vabbè che non mi avrebbe Tolto tanto Perché ho tanta difesa Però Anzi Ha tolto Merda Ma a zero attacco Quell'Ipheon Comunque A zero attacco Quell'Ipheon Ragazzi Wazor Hai sentito La mega challenge Che faremo Su FireRed Anche Manezzi Becca Io non rischierei Aftermath Al contatto Quindi farei Trauer Se fa anche il capopale Tantissima roba Bro È letteralmente Too much Cioè Sarei stupito Bro Facesse anche il capopale Qui Bella Isolotto Grazie del Prime Broder Grazie Grazie Rega Delle Sabette Grazie a tutti Capi Gentilissimi Grazie Dei follo Delle Sab E tutto Capi Apprezzo Merda No Sono Non dovevo Fare questo Volevo usare La A questo punto Non so neanche S'usarlo Abbiamo solo una Che è sto Ma la userei Nel dubbio Perché potrei Dormire un botto Ma si lo facciamo La che è sto qui Puoi prendere Coil Almeno ora lo Shottiamo Per forza Con Force Pelm Vediamo Cresselia Eh mi sa che Da Cresselia Ci lascia Il Pokémon Porco Dio Cioè Ma che cazzo F Mi sa Da Cresselia A meno che non Crittiamo Ma me lo aspettavo Già Arrivare qua Io pensavo morisse Al 50 Qualcosa Al 75 O Crittiamo O lui Miss Pure si è morti L'unica cura Che ho L'Enigma Ma Ci sta Vabbè Non ci possiamo lamentare Ragazzi A questo Pokémon Qua non gli avrei dato Cioè Già l'Out of Brock Mi ha sorpreso Ha fatto due carte Fatica di Mewtwo E E tutta sta roba Cioè Ha fatto quel che doveva fare Onestamente Cioè Spermere i Pokémon Come questo Che ti fa fare punti Quindi Direi che Non è stato male